8.000 di alte, alte Oh mio dio Ma ragazzi, che cavolo state facendo? Buco 40 HP, no, porta 40 HP Porta 40 HP Un alto sta andando verso buco Ma io sto guardando buco e in buco non c'è niente Sto C'è niente in buco Io l'ho detto Oh tua madre Ok Boom Ciao tua sorella Aspetta Via 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 Ok, vai via La fuga No, la fuga No, la fuga No, la fuga Te la compro lui Oh Dio No, non posso comprare No, non voglio Vale volata via Si è schiantata contro la pare Oh la bomba Oh Dio Vai grande gioco Vai, vai, vai Vai Stiamo migliorando Vai, vai, vai Perché lui è sempre sociale ed è così avanti da solo Perché io parto invece di ridere No, perché lui è che adesso di rosica perché fa freddo giù da quelle parti Ok, 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 fuoco, fuoco, fuoco No, entriamo in via, entriamo in via, raga, entriamo in via Io mi copro dietro Ok, vai, coprici C'è gente Sono entrati ragazzi Io sono entrata Ok, non vi è una volta Eh, che volevi fare? Ecco, la vp Bella copertura Plantate Eh, qualcuno planti Ecco, se mi copite sì Raga, però silenzio, veramente Vai, vai, vai Io guardo buco Grandeliu Ho tirato una flashbang da buco GG per lui Ho pensato io A vp, lui Oh, attenzione, da porte E' fuori dalle porte Occhio che se ne va a buco, sicuro Questa volta scappa Un gg per lui, ragazzi Un cavolo di gg per lui No, stavolta me la favo pure Ha fatto quattro cose che Uno l'ha stampato contro un palo Uno l'ha stampato contro un palo Beh, vada per favore Un taglio, c'è proprio il taglioaggio Dust2 Allora, no, vai Usò L'arma migliore Quindi alla K47 Se sai usare Te la sai usare, sì No, ok, va bene Becchi in testa con la KV Vai, vai, vai Siamo tutti in B, vai Eh, buco Ok State a plantare E' il lupo che fanno Lo sta crashando, uccidetelo Uccido? No, sto scherzando No, mi chiara, ragazzi Mi si blocca il gioco, puttana L'hai visto? Eh, sì, stavi Tipo stavissimo E sono i driver di merda Vai, io guardo Buco No, ma tranquilli Faccio tutto io Ma va bene, ok Grande io Faccio tutto io E fa tutto lui Così, va bene Va bene Allora, granate Io prendo flashbang Ti ha Sono entrato in B con il nuovo Ho fatto una strage Hai ancora il nuovo adesso Sì, la seconda kill che ho fatto Mi sei bloccato anche il gioco Mentre uccidevo Sempre in B, raga Sì, sempre in B Sempre in B Tanto quelli sono stupidi E vanno e no Ecco, abbiamo Adesso stimoliamo tutti Guardate, eh Uno B lo mi sto passare Due B sicuro Ah, macchine, macchine Si switcha No, no, c'è uno Raga Uno porta la macchina Dai Porta è feritissimo Questo Macchine, macchine, macchine Vale Aia L'ho fatto Oh, sì Che l'ho fatto Qualcuno planti E poi E poi Pemolicarica 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 Grazie per la copertura Da dove Da dove Grazie per la copertura Ragazzi Faccio io Faccio io Faccio io Oh, io due chili Le ho fatte Oh, ragazzi Oh, come si dice No, ho buttato Good health Good health Good health Good health Pepo Fai un casino Mamma mia Mamma mia Ragazzi Io sto No, ho iniziato Di gioco Fai un casino Una madonna Come si scrive in chat Ah, con la Y Con la Y A tutti Con la U Alla squadra Va di lunga Ah, è Per un paio di round Pepo Quando muori Guardami Oh, dove andate Oh, dove andate Che cazzo Perché voglio Che anche I vostri fan Sappiano Le mie kill Va bene E far rosicare Tia Tutto insieme Ma che cosa vuoi fare Anzi Commentate i video Di Pepo E di Tia Con scritto Rosica Così No, però Rosica Trattino Tia Ah, ah, ah Ampeudate no No, ampeudate Cioè Vi siete fatti Hanno lasciato mid Si tornato Hanno Hanno lasciato mid Non ho lasciato mid Sì, perché Ah, non hanno fatto Eh, io ve li ho fatti Sai com'è Non è come va Con calma No, quando vuoi trepare Me lo dice L'altro F O Decusate 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 Io non so Chi ha visto a me Ma non crepava Io lo stavo guardando Sta già diffusando Vale Eh, sono io Che sto diffusando Credo Grandissima Vale Non grandissimo Ma io non vi capisco Guarda Io non vi capisco Proprio Io non vi capisco Proprio Cioè Io non vi capisco No, vi ricordo Adesso sia Tia Che Pepo Quando morite Guardatemi Vai 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 E ditemi Che mi state guardando Che ve lo faccio vedere Anche a voi Non ho bisogno Di imparare Vi do solamente Un numero 774 Banco Che cos'è 774 Le kiwi che ha fatto Con l'M4 Adesso se la tirerà Fino a qua Non arrivo 800 No Fino a qua Gli bannano L'account E non potrà più Vederle Ecco 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 Aspetta Ma li stai errando tutti Ma che cosa Che faccia Ma perché parlate Come muoio Perché E chi sta parlando Oh vai È bello che non ti ho ucciso Gio E mi crash Aspetta ma c'è un tizio Oh no Ok Oh raga io guardo lunga Grandissimi ragazzi Grande Gio Grande Gio AK Luce 6 M4 Lugine Eccolo Ando Pepo Pepo 26 Vieni qua Girati To Non la puoi vedere Premi la F Premi la F Veloce Cos'è Può vedere 176 Eh Ridamba Adesso Però Zio Grazie Ma lo Voglio Venga Ecco Perché Hanno Comprato Gli AK Già In Tre Che Cosa Che Cosa Mi Fatto Non capisco Ma pure Lugine A4 Ma i capensimi Bibi Bibi Vai tutti In B Tutti In B Vabbè io me ne sono fatti Tre Tu sei morta No Sono qua Scemo Aspetta vai Vengo 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 Non ucciso Dietro le scatole Mamma mia Mamma mia Olio Me lo dai pure Ammesso fucile Scusami Col cazzo Fattele le kill Commentate ragazzi Rossi Ma dai Ma lo voglio Ti regalo queste Ti ha Ehi Giotto Peppo Cos'è La bomba La pistola Fai G No Vabbè Anche le berette Hanno scritto A raga Ho mandato Le pistole Grazie Letta Risposto Gen La ft Ancora Peppo Per mila F Le pistole Hanno Flashato Lunga User User E' una scusa E' una scusa Vedi Se ne andanno da scale 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 non fa male Arrivo 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 Ma quando vuoi morire Diglielo No vabbè Ma ragazzi Dove ti stare sul punto bomba Oh c'è la bomba e se sono la bella E' a destra 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 Quella è a destra Vale Destra Quale è su lì La so E' a destra Io mi metto sulla bomba Gira E' a destra Arriva da su Arriva da su Ciao Ma non fare casino Vale E' a stai facendo niente E' stai fermo lì Mamma mia Ti pigliare ammazzate Dei fermo lì Vole Arrivo da destra E' a 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 destra Mi riguarderò il video Solamente per vedere Se ho detto giusto Che era a destra E' a destra Ma io sto andando prima E' a destra Ma sono andando a sinistra Vale No Se va bene Pure Ma Ma Che coraggio Che è di dire Che sta viandando a sinistra Oh vai Io mi sono preso La molotov Sì Ma vado io da soli Invega Non preoccupate Io No no Raga Che è successo Oddio Vai 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 Io vorrei Viva Tempi Sì Quattro In via Adesso Nice We Allora Guardo Mid è lunga vado è lunga è porco 2 mi sono incastrato con un bidone di merda lunga 2 3 4 5 7 12 non c'è non è lunga 2 è lunga come non è in fossa c'ho tutte le armi scacchere ma porca di quella schifo ma chi guarda nessuno ragazzi i ragazzi di te che l'ultimo vale sta palantando è sul punto bomba è sul punto bomba non camminare carnata vita di tavale zitta sinistra e santa c'è qua si è buttato giù ma con la bomba e no guarda quelle cari con le scarpe ehi sono qui è andato in vivo adesso è andato in vivo alle vai no ha fesciata c'è stato cazzo vada più no per coltello in mano vale siete uno contro uno può essere male il coltello sì con la bomba ma c'hai un mitra l'hai pagato eh quando fai cambio d'armi ti sentono 15 secondi si ferma che questo non planta perché se planta bomba è ben planta contrafaciale 7 6 paio fu quello piatto vabbè no abbiamo vinto abbiamo vinto troppatemi un'arma raga un bella vp troppatemi una vp dove sei sei tirato sono qui dove vai e sono dire che la vp che schifo la pistola l'aventatemi una vuota no ho sbagliato un'arma raga ai ciascari di qua vieni qua è un'arma voi qui sono qui grazie mille joseph è assente ci sono ci sono un attimo io devo in via copertura dimmi se arriva qualcuno che mi hanno cercato non bene mi arrivano i poch lasciamo stare mi hanno tirato una bomba bomba drop meet o l'orato mamma mia bella che ho fatto io guarda c'è ma che cosa ne volete sapere voi dai ma dai ma dai mamma mia quando mi dice non la vp era un round ok vedete se provo la vp vai no che poi perdiamo è ma come al solito ti amo di copiare le chili risonati ha capito no veramente se tu che copia me poi vabbè dovremmo tocci per sbaglio è in bilan gisa no mit mit veloci male ragazzi che voi da 6 ho fatto lunga lunga e io sono in lunga a come tempo con la vp e ben perso come tempo con la vp è rimasto tempo contro due con la vp è rimasto tempo siamo il mio amico però c'è capisci che poi alla fine col big mac non potevo permettermi la testa allora cercate di prendermi una p.mil e sapendo che comunque non potevo non potreste capire che comunque sapendo che avremmo che aver fatto il make drive avrei rispornato comunque una cifra di 15 euro e 29 alla bomba l'hai superato prendendo comunque anche la prima insieme al giocatore si è capito che prendendo anche la macchina insieme ai potremmo capire che comunque alla fine è uno sconto e che ti avvantaggia l'ha fatto di avere comunque quattro cinque nes no che cazzo ma perché mi stava levando il silenziatore perché ci spara con sinistro pepo no dai ma l'avevo ucciso li voleva ammirare siamo anche in equano io quando mai non sei nico se vale ti troppa una mentre questo giorno per prendere i moviti ma aspetta tanti poi vieni qua sono già partito non è partito avuto il mio santo poi una voglia la vp luco il pombo la canzone anzi muovi a chi spari pepo non lo so sparavo nel fumo c'era un amico tu ne sa uno sotto 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 che cos'è porte o ce n'è uno nel fumo ecco ce n'è uno nel fumo dove è tirato il fumogeno c'è gioia e le dix ma sono da solo ma sono da solo che cazzo che cazzo racconta questo io guarda le kill e mi raccomando le guardi bene dici tu guarda ne ho 100 di a tia tia dimmi io no io non ci vado perché mi muoio perché in a me no in anno ho fatto due kill prima arrivando che sono tutti in bifi di sozza mi sa che non c'è l'ho che ne ho ammazzato sono i miei 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 buio basso buio basso che cos'è poi ma tutto il cazzo è buio basso che sia sono due che cos'è buio basso sicuramente posizionate poi vai a morire se mamma mia come non sei morto ma ragazzi ma non è morto ma avete visto io ho visto no ho visto no seriamente io ho sparato tre caricatori non è morto certo no ma la cosa bella che io ho preso 18 miliardi di volte confermo confermo o stiamo vincendo comunque dai non basta non basta io vado e proprio guarda che questo è counter strike finché non finisce la partita non si può mai dire ma signori devo ha fatto 9 kill poi allora ho fatto 10 e 10 kill e porta rispetto alle mie kill di nuovo buio basso con tutti tutti fuori sono tutti fuori no sono qua e porte blu sono tutti fuori da ragazzi e campiano si sta entrando no non stanno entrando stanno facendo la caccia milano tale tale è un pieno che cazzo è qualcosa è l'arma efficiente attenta attenta giova i giova i giova i giova i giova tranquilla stai tranquilla non ti stressare non non avere l'ansia tranquilla già e lei messa tola di venire ad aiutarmi ragazzi no infatti dico lo dico lo stesso vabbè io sto con tia vai tia tranquilla in me adesso il problema è che si sono tutti morti chi cazzo ti aiuto infatti io voglio il nova mi spieghi che cazzo dove dove lo compri il nova suarli pesanti o vado con il nuovo io ho chiesto è un perso non è vero fatemele provare le armi uso sempre il famas l'infame non vanno in scale mid mid scale giù e io mi hanno cercato mid scale sotto cosa dove ora c'è una in tonne non è in tonne non è andata a prendervelo mica regali avete fatti passare sono due in tunnel 31 no l'ho ucciso grandissimo ma troppi in b ragazzi venite grandissimo io che ne ho ammazzato nel mid e poi mi stai guardando gli appa toto dai ragazzi di pro macchine in scatole mentre guardavo le kill mentre ti è che è pezzo di merda shut up shut up bitch your mother is a bitch tua mamma c'ha la bici pezzo di merda tu mamma c'ha la bici che è quel cestino un cestino e sarà il cestino quindi ragazzi se questo video è piaciuto come se invita a lasciare 10.000 pollici in su mi raccomando qui sotto scrivete rosica rosica tia a un prossimo video e ciao 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 ragazzi ciao